All'alba di oggi, a Patti, Gioiosa Marea e Barcellona Pozzi di Otto, i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari Gonzales Perez Ignazio Francisco, di 29 anni, cubano e residente a Patti, calabrese Marco Pietro, di Barcellona, 26 anni, e i pattesi D'Amico Alessandro, 25 anni, Morciano Michel, 20 anni, Lopresti Rosario, 22 anni. Inoltre, nell'ordinanza cautelare sono stati disposti ulteriori quattro provvedimenti a carico di Corica Mari Mauro, di 37 anni, di Barcellona, e dei ventenni San Giorgio Agostino Antonio, di Patti, e solo Pietro Andrea Fabrizio, di Gioiosa Marea, Sorbera Daniela, 36 anni, di Gioiosa Marea. Tutti gli indagati sono gravemente indiziati del reato di traffico e detenzione illecita di sostanze superfacenti.